Questo soprannome parla non solo di me ma parla anche della mia terra e questo per me è un aspetto importantissimo, qualcosa a cui sono legato e a cui difficilmente potrei fare a meno. Il venire ricordato e venire chiamato sempre con questo soprannome ha iniziato a farmi piacere ed è una cosa di cui vado fiero. Queste terre qua possono dare tanto al ciclo turista ed è bello anche ed è giusto valorizzarle.